Filobussi, pali e i fili che ingabbiano la città non piacciono ai leccesi che, intervistati, bocciano l'opera. E allora quale potrebbe essere il futuro della filovia? Noi lo abbiamo chiesto ai cittadini. La posizione della maggior parte sembra essere chiara. Smontare la ragnatela. Potrebbe essere utile, però non ci sono le condizioni, secondo me, per farla stare in piedi. Quindi smontarla? Sì. Bisognerebbe non averlo fatto proprio. Far pagare i danni a loro e non ai cittadini. E così tutti felici e contenti. Adesso questo Filobuss, secondo me, stanno facendo ridere i polli, diciamo, perché ognuno si scavalca responsabilità. Perché di questo si tratta, non di un servizio efficiente, ma di un servizio deficiente. Immaginavo che la città doveva essere deturbata di tutta questa marea di fili e di pali e compagnia bella. E poi non serve, perché il Filobuss non fa altro che sostituisce i mezzi che già ci sono. Solo che quelli che ci sono vanno a gas o gasolio. E quelli dovrebbero andare elettrici. Ma il trasporto non migliorerà, anzi peggiorerà, perché questi sono mezzi che in città creeranno un sacco di problemi. Perché hanno una dimensione che non sono di Lecce. Potrebbero andare bene sulla Lecce San Cataldo, sulle estremità della città, ma non in città. Visto che il danno è stato fatto, dicono, allora bisognerebbe spostarlo sulla Lecce San Cataldo. Io preferirei di smontarlo e di portarlo a San Cataldo. Lecce San Cataldo è andato in ritorno. Forse l'idea più bella ci può essere a Lecce. E poi c'è una minima parte che pensa che l'opera debba entrare in funzione. Ormai la spesa è stata fatta. Pare che a spostarlo bisogna forse pure pagare una penale, una cosa del genere. Ormai, come devo dire, il danno è fatto, teniamo. E' stato combinato proprio in pieno. Peggio di così non poteva andare. Secondo lei bisognerebbe smontarlo, tenerselo oppure aspettare l'esito delle indagini e vedere come andrà a finire? Secondo me bisogna controllare qual è la situazione effettiva, vera. Perché mi sembra che sono 1700 giorni che non funziona. Evidentemente ci sono delle responsabilità da parte di chi ha messo in essere questa situazione. Quindi bisogna verificare. E poi? E poi bisogna metterlo in funzione. Se funziona tenerselo. Se non è utile per il popolo leccese bisognerà smontarlo. Però tutti i soldi sono stati spesi. Credo che sia un investimento da portare avanti, assolutamente. Insomma, il filobus, la cui partenza è prevista per il 27 dicembre, non piace ai leccesi che avrebbero preferito non vedere la città ingabbiata.